L'Europa! Volevano fassurire un'Europa dai diritti, invece è un'Europa che produce povertà come si vede in Grecia. Renzi voleva rilanciare questo paese. Abbiamo visto, ci ha riportato in anni in buio indietro con il John Sack, che è una vera schiavizzazione di chi un lavoro oggi ce l'ha, ma soprattutto la cancellazione del futuro di chi un lavoro non ha ancora. Questa piazza rimendica unità tra migranti, la stessa casa, un'unità che deve oltrepassare le frontiere. Noi la polizia in mezzo a questo corteo non la vogliamo, vogliamo una polizia che arresta i mafiosi, come si è visto a Roma, mafia capitale. Non ha nulla da condividere con chi ha costruito un impero economico attraverso la gestione dei centri di accoglienza. Questa è la libertà, la piazza della libertà per i diritti e della dignità, ma è una piazza di tanti operatori sociali che credono in questo lavoro e non vogliono restare i poliziotti all'interno dei centri, intimidando i ragazzi rifugiati quando osano rivendicare i loro diritti. Questa piazza è fatta di tantissime persone che lottano ogni giorno accanto ai migranti, molti dei quali hanno avuto dei provvedimenti e rischiano davvero. Non abbiamo commesso nessun reato, si sono schierati a fianco ai migranti come tanti compagni che sono venuti con noi dall'ex moi di Torino. In questo periodo si vuole soffocare quella lotta, si vuole soffocare chi si è schierato dalla parte dei migranti quando dall'altra parte le cooperative sociali rosse e bianche hanno russottiato il sangue ai migranti con il piano Emergenza Nord Africa per poi lasciarli pensare.